Siamo qui per difendere i diritti della montagna e della Val Trebbia. Siamo qui oggi perché noi viviamo in Alta Valle ed è giusto presentarsi a queste iniziative, soprattutto perché è un disagio che ha provocato a tutta la popolazione della Val Trebbia e quindi è giusto partecipare. Io sono di Piacenza, però ho sposato un cerignalese, quindi abbiamo la casa cerignale e tutti i fini di settimana subiamo questo difficile percorso alternativo che ci porta ad allungare tantissimo la strada, però noi resistiamo assolutamente e vogliamo attirare l'attenzione su questo progetto del ponte che veramente ha dei prezzi esorbitanti. Il ponte vecchio diciamo oramai è diventato un museo e teniamolo come museo. Tutte le cose finiscono e lui è finito, ma è finito male perché è stato curato male. Dovevano farlo dall'altra parte e l'altra cosa vergognosa è che hanno fatto questo ponte provvisorio per fare qui sotto. E per forza qui siamo di Piacenza, poi vado sempre a cerignale, quindi bisogna essere qua. Poi rispettare la volontà dei sindaci, della popolazione, del luogo prima di tutto. Ascoltare la gente, ascoltare la gente. Grazie.